Il ricordo è vivo e lucido da raccontare al presente. Il primo agosto del 2021, nonostante i tentativi di arginare i lapilli provenienti dai primi fuochi, una grande parte della pineta di Pescara soccombe e si fa cenere. Il paesaggio diventa spettrale. Oggi il sindaco Masci ha ripercorso quei momenti e ha ricordato le sue lacrime. «Lacrime di tutti i pescaresi», ha detto. La natura, per fortuna, sa anche curarsi da sola, così le pigne cadute dai rami durante il rogo si sono dischiuse e hanno rigenerato con i loro semi il tessuto arboreo. Ma in questi 12 mesi, dice il sindaco, anche noi abbiamo fatto tanto. Sopra luoghi continui, monitoraggio costante sugli alberi con sensori e telecamere e spropri mirati per allargare il nostro polmone verde cittadino. E si lavora anche su via Pantini, che diventerà un bypass utile all'accorpamento delle pinete. Avremo a disposizione 1.200.000 euro da investire tutti all'interno della pineta per fare in modo che ci sia anche un allargamento della pineta stessa, perché, come sapete, abbiamo già avviato le procedure di esproprio sia per una parte del galoppatoio che per la struttura che si trova all'interno della riserva, che era l'ex casello ferroviario, che è stato acquisito da un privato, ma quella struttura diverrà di dominio pubblico comunale. Con le risorse d'assicurazione amplieremo la parte di esproprio del galoppatoio, in modo tale da acquisire la totalità di quell'area alla città di Pescara. Sono altri circa 50.000 metri quadrati. Abbatteremo lo svincolo a Trombetta, già ci sono oramai i progetti esecutivi che stanno andando in gara. Questo ci permetterà di accorpare il comparto 4 e il comparto 5, eliminando via della Bonifica. Stiamo realizzando quella strada alternativa, che è via Pantini, che è all'esterno della pineta, così allargheremo ulteriormente la riserva naturale. Quello di cui si parlava da decenni è che il prossimo anno verrà realizzato. Pianteremo molte altre essenze. C'è un lavoro costante che seguiamo. La pineta tornerà più bella di prima o bella come prima e sarà ampliata rispetto a prima. Questo è l'impegno che io ho assunto nel momento in cui piangevo di fronte alla città. Questo lavoro lo stiamo facendo proprio per portarlo a termine. C'è un lavoro costante.